Buongiorno a tutti, centro storico di Rimini, non possiamo non citare Federico Fellini. Simona, buongiorno. Non ha mai girato una pellicola, una scena fisicamente qui a Rimini, ma le varie scene che si vedono sono state ricostruite a Cinecittà. Una di queste ci stiamo arrivando in piazza Cavour. Emanuele, buongiorno. Eccoci arrivati. Paolo, buongiorno. Maria, buongiorno. Proprio in questa fontana della pigna si posò il pavone nella scena delle palle di neve, nel film Amarco. Accanto c'è la vecchia pescheria. Monica dice ti trovi nella terra che amo, sono Veneta, ma l'Emilia Romagna che adoro. Direi di farci una corsetta per raggiungere il castello. Sì, comunque Monica hai ragione, terra bellissima. Emanuele, buongiorno. Devo forse Alberto Angelo, ragazzi. Mi sembro più fantozzi che racconta. Sto scoprendo tante cose insieme a voi. Eccoci qui. Castel Sismondo. Definito proprio da Fellini la rocca, la prigione di Francesca. Giussi, buongiorno. Grazie, buongiorno. E da una cinta di bastioni, distrutti alla fine del XIX secolo. Bellissimo. Emilia dice però bella Rimini. Ma veramente bella, perché uno magari pensa subito al mare, no? Al divertimento. Va bene, io vi saluto. È stato come sempre un piacere. Ci vediamo domani sempre 6.30 puntuali. Non si sa da dove, vediamo. Da qualche parte vi fermerò. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao a tutti.